io non lo so se siamo in australia però ragazzi credetemi è di una bellezza allucinante e spettacolare è veramente spettacolare benvenuti a bristol benvenuti a bristol e cominciamo la nostra vacanza buongiorno benvenuti in cornovaglia oggi comincia la nostra vacanza e siamo diretti alla tintager domani andiamo a visitare il castello di Camelot che si trova qua e poi andiamo in un paesino portisac che praticamente della grande fission dottor martin che a Enzia piaceva molto a me pure quindi nell'occasione andiamo a visitare questo piccolo paesino di pescatori buongiorno eccoci al castello di tintager stiamo cominciando già la nostra prima visita ciao e qui siamo praticamente per addentrarci alla struttura del castello di pinta è spettacolare anche la vista diciamo ecco ok continuiamo la nostra discesa e vedete su serio perché è abbastanza ripida dice giustamente però credetemi è bellissima spettacolare stiamo arrivando qua vicino al ponte ecco la fiesce guardate stiamo salendo come potete vedere le scale che collega quest'isolo sotto e guardate qua la maestosità anche ecco 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 Grazie a tutti. 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 Buongiorno e buon ferragosto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.